Il gruppo E-Tech Elettronica dell'Aquila ha realizzato un nuovo macchinario per la costruzione di circuiti elettronici per il sistema aerospaziale. Il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Tinari, ha parlato di occasione di sviluppo e alleanze con altre industrie ad Abruzzo. È il secondo macchinario in Europa in grado di realizzare circuiti elettronici per il sistema aerospaziale presentato all'Aquila. È stato progettato e realizzato in città dal gruppo E-Tech Elettronica, un'azienda leader nel settore dell'elettronica industriale, fiore all'occhiello del tessuto industriale aquilano. Un risultato straordinario anche secondo il presidente del Consiglio Comunale, Tinari, che rappresenta un'importante finestra sul futuro del settore aerospaziale e un'occasione soprattutto di sviluppo e alleanza con altre realtà industriali abruzzesi per l'acquisizione di nuove commesse internazionali. Tinari ha voluto esprimere in qualità di presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila, a nome suo e di tutta l'amministrazione comunale, le congratulazioni alle professionalità di altissimo livello che dai processi manifatturieri e alle attività di ricerca e sviluppo industriale hanno contribuito a rafforzare il sodalizio tra Tala e Salenia Space e le aziende del territorio aquilano in un settore, quello dell'alta tecnologia, che va sostenuto e incentivato per la rinascita economica e lavorativa della città dell'Aquila.